ecco qua ho posizionato un attimo Yomin è stata un po' un'impresa posizionale tipo sul secondo posto l'edicolante perché appunto con il pezzo qua che rompe le scatole non è facile naturalmente bambina in piedi ho posizionato un po così e forse questo era per le valigie non so se ho fatto bene a mettere la valigia lì oppure no il cane l'abbiamo messo nell'unico punto in cui si può incastrare e poi l'autista è quello che sta meglio dalla fin dei conti quindi la nostra bella corriera tutta bella completa con i nostri dei personaggi posizionati poi andiamo ad aprire ecco qui la signorina con la carrozzella può uscire tranquillamente abbiamo posizionato tutti cane compreso autista e siamo punti per fare la gita autista portaci all'auto grindo e andremo allo stadio vabbè niente un'ultima precisazione ho visto che su bricklink alcuni set segnano questo tale due per due con le lego news e cos'è che c'è scritto che non mi ricordo the greatest e lego hero centi in alcuni se questo con l'albero il pompiere e in altre c'è un altro tale sempre con articoli giornale con il pompiere che salva il gatto che si vede sull'albero un po diversa raffigurazione dipende un po non capisco come mai bo probabilmente questi salti di corsia in corsa non lo so è una precisazione visto che solo controllare un po così su bricklink con le tirano i pezzi bene ragazzi è tutto un saluto io so che sto facendo questi viti video siti e avrei una marea di pezzi set castle e di altre cose più interessanti a poter far vedere vado un po' anche in base a dove mi porta l'onda del momento va bene un saluto a tutti e ciao